molte grazie per questo appassionato dibattito su posizioni molto profilate penso che abbia fatto salire la pressione bisogna addolcirla con un po di armonia chiediamola di nuovo voce all'arpa di Elisa Nettri grazie non siamo area liberale e in Cicino siamo con i vecini grazie 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 anche per quest'ultima splendida interpretazione direi che il carattere solenne della Sarabanda con un'aggiunta un po' più colorita di Nino Rota sia un'ottima premessa anche per Ignazio che invito al pulpito la parola Sì caro presidente stimato presidente caro Remigio caro Verio responsabile e coordinatore di questo convegno stimati membri del Parlamento nazionale e autorità cantonali e comunali presenti gentili signore e gregi signori è un piacere essere qui e ascoltare questo dibattito sulle relazioni complesse complesse qualche volta euforiche qualche volta depressive con i nostri vicini come avviene in ogni famiglia come avviene in ogni coppia anche a livello di Stati si osservano le stesse dinamiche perché in fin dei conti sono esseri umani che ci stanno dietro per me è stato undici mesi e mezzo fa un momento importante nella vita come ha detto giustamente il professor Schrock ha detto abbiamo a che fare con negoziati lunghi difficili con una lentezza negoziale abbiamo un clima politico delicato ha detto ed è proprio in questo contesto che ho avuto l'onore e il grandissimo piacere di ricevere in mano il dossier naturalmente ci sono momenti nella vita in cui uno vorrebbe essere Harry Potter e tirar fuori la bacchetta magica e dire problema risolto così facile non è ma è appassionante e quando sento un dibattito come oggi mi rendo conto della necessità di discussione di comprensione di quante cose giuste quanti errorini vengono anche fatti passare ma mi rendo anche conto e soprattutto di quanto è bella la Svizzera raramente c'è ho visto in questo anno di Ministro di Affari Esteri altri paesi che dove la gente al sabato pomeriggio si richiude in un bunker universitario per parlare dei rapporti tormentati con l'Unione Europea e questa è una malattia tutta svizzera tutta particolare che come medico non voglio assolutamente guarire che duri a lungo perché è la nostra salvezza io cercherò di rassumervi un po' la situazione e evidentemente sono limitato da due fattori il primo che so molto ma posso dirvi poco e secondo che ho soltanto 15 minuti a disposizione quindi farò del mio meglio per restare in questo tempo qui ci siamo questo è il nostro paese lì in mezzo a tant'altri paesi che siano poi blu con le stellette gialli o altri colori ma lì siamo e da lì è difficile spostarci anche se qualcuno magari sognerebbe di essere in mezzo all'oceano pacifico e di avere finalmente un po' di pace attorno a noi in realtà siamo lì e siamo destinati a essere lì con tutta la volontà di questa terra da lì non ci muoveremo a meno che altri ci faranno muovere e questo è già un'osservazione principale seconda osservazione è che non soltanto siamo lì per caso ma siamo lì perché attorno a noi ci sono altri e siamo parte di questi altri cioè non solo siamo nel cuore della Svizzera ma nel cuore della Svizzera c'è l'Europa abbiamo appena sentito Nino Rota abbiamo appena sentito Georg Friedrich Handel non abbiamo sentito musica cinese giapponese coreana o sudamericana perché questa è la nostra cultura perché la musica come il sapere è europeo questo siamo e questo saremo destinati ad esserlo ma c'è di più per la Svizzera è che se noi non avessimo avuto questo rapporto tormentato con quelle bandiere lì attorno a noi non saremmo mai nati perché saremmo semplicemente una regione di quelle bandiere lì e invece siamo nati proprio perché come oggi viviamo questi mal di pancia continui con chi ci sta attorno se guardiamo la Svizzera le lingue quindi la cultura che rappresentiamo possiamo vedere che i veri Svizzeri sono lo 0,5% che sono i romanci sono gli unici che attorno a noi non hanno uno Stato che parla e vive la cultura romancia tutti gli altri siamo parte e in questo essere parti abbiamo un bisogno tremendo di trovare la nostra identità quindi c'è una relazione di amore e odio fin dalla notte dei tempi e così andrà avanti e siamo qui assieme per una ragione che cosa ci tiene legati ci tiene legati questa banalissima questione a dire più difficile a mettere in atto cioè una genetica allergia contro la concentrazione di potere noi non sopportiamo che il potere sia concentrato i paesi attorni avevano tutti i poteri concentrati re, regine, dittatori tutto quello che c'è sullo spettro della concentrazione del potere c'era da noi non c'è mai stato anzi è nato proprio perché non volevamo accettare questa concentrazione del potere questa è l'unica ragione perché un luganese va a far guerra con uno di Ginevra e uno di Appenzello perché quando andiamo fuori a con gli amici avere qualcosa difficilmente andiamo spontaneamente con uno di Appenzello o con uno di Ginevra prima dobbiamo conoscerli altrimenti sono lontani hanno una cultura diversa questa genetica allergia si articola su tre binari il primo è il federalismo stiamo insieme perché in fondo ogni cantone nelle cose veramente viscerali fa quello che vuole stiamo insieme perché c'è una democrazia diretta che quattro volte all'anno boccia quello che non le va bene e quindi il popolo diversamente dagli altri cantoni ha detto molto bene Sergio Morisoli da noi dice sì o no e quello definisce il nostro destino e siamo insieme perché abbiamo abbiamo talmente paura di accentrare il potere che non lo accentriamo neanche nell'esercito neanche nella politica eccetera ma inviamo cittadini a fare due o tre cose assieme poi le magari le facciamo secondo noi non tanto bene ma il risultato direi che è assolutamente egregio nel paragone internazionale quindi queste caratteristiche sono le caratteristiche che ci mettono lì dove siamo e che ci permettono di agire con chi ci sta attorno a noi e agiamo non è che dormiamo facciamo molto abbiamo un milione e mezzo di posti di lavoro che dipendono da chi ci sta attorno siamo insieme agli Stati Uniti e alla Cina il terzo parce commerciale più importante per tutta l'Unione Europea che ha un po' più di 8,5 milioni di abitanti ne ha 520 milioni quindi è un'altra dimensione un franco su tre quindi 60 centesimi di una moneta da due franchi che prendete in mano dal vostro borsino è legata al fatto che noi possiamo entrare in questi mercati e vendere i nostri prodotti non potessimo voi il vostro due franchi si riduce di 60 centesimi dall'Unione Europea importiamo il 71% delle importazioni e mandiamo la nostra merce esce dalla Svizzera e nel 53% va nell'Unione Europea quindi vedete che legami viscerali non è solo Handel e Nino Rota è molto di più c'è ci sono soldi ci sono commerci ci sono generazioni di imprenditori che hanno fatto questo legame abbiamo 430 mila svizzeri che vivono nell'Unione Europea su 800 mila svizzeri all'estero più della metà sono in Unione Europea e abbiamo più di 320 mila europei che quotidianamente entrano a lavorare da noi i famosi frontalieri e siamo nel cantone giusto per poterne parlare 500 milioni un mercato importante un mercato con il quale ogni giorno scambiamo un miliardo di franchi nel breve termine di due ore di questa conferenza da quando sono qui sono già diverse decine di milioni di franchi e questo deve essere la prima risposta a chi dice fermate il mondo voglio scendere questo non è così perché nella Bibbia c'è scritto che abbiamo diritto a un milione di scambi questo è così perché è il risultato di un'evoluzione del volere delle persone che ci hanno preceduto e a noi la domanda vogliamo continuare vogliamo migliorare vogliamo regredire questa è la domanda che occorre porsi naturalmente cerchiamo altri mercati penso e spero che entro la fine di quest'anno proprio oggi il mio collega Schneider Amman è in Indonesia per cercare di concludere prima che lasci il suo mandato un accordo di libero scambio con l'Indonesia un paesello di 280 milioni di abitanti quindi 280 milioni di consumatori più della metà dell'Unione Europea e siamo già ben messi un miliardo anche solo non al giorno un miliardo all'anno vedete su quale scala logaritmica ci troviamo nei rapporti e nella dipendenza tra chi ci sta attorno e chi è lontano geograficamente da noi avere tutti questi scambi con l'Unione Europea lo ha scritto molto molto bene remigiorati nella pagina introduttiva dell'opuscolo di oggi significa aver discusso milioni di ore negoziato milioni di ore concluso centinaia di accordi perché nessuno di voi metterebbe dei soldi senza la garanzia di non perderli immediatamente perché non c'è sicurezza giuridica chiunque di voi investe compra una casa vuole accertarsi di fare un contratto corretto che non gliela portano via dopo due giorni contro la sua volontà e questo avviene anche negli scambi commerciali quindi abbiamo dei contratti che chiamiamo anche accordi che abbiamo che abbiamo concluso in tanti anni da quando è nata la comunità economica europea che ha detto bene Greta Haller è stata diciamo lo strumento per arrivare a una comunità politica più importante ma siamo ben lontani da anche solo uno stato federale pensate che noi ci abbiamo messo da ammettiamo che il 1291 sia vero ma ci abbiamo messo dal 1291 al 1848 per passare da una situazione così a quella di uno stato federale come conosciamo oggi con infinite guerre mal di pancia e tutto il resto quindi non possiamo immaginare che in 50 anni su una scala 50 volte più grande si possano e con una diversità culturale ancora più grande che quella svizzera si possa arrivare molto lontano è un processo che durerà e chissà come andrà a finire ce lo dirà la storia nel 2500 questo per dirvi cosa per dirvi che dobbiamo stare attenti di non cadere nella trappola della drammatizzazione avere rapporti di alti e bassi con i nostri vicini è la nostra quintessenza non esisteremmo se non avessimo avuto mal di pancia con i nostri vicini non saremmo mai nati quindi prendiamola un po' sportivamente questa cosa non si tratta di così immaginare l'apocalisse per domani mattina l'abbiamo presa sportivamente l'abbiamo presa qualche volta drammaticamente nel 92 c'è stata una svolta importante nei nostri rapporti avevamo costruito noi svizzeri questo spazio economico europeo i più giovani forse non lo sanno era una nostra invenzione come le caramelle ricola non erano i finlandesi che l'hanno fatto e questa nostra invenzione alla fine il popolo ha detto non ci interessa non la vogliamo a tutti i diritti il popolo ha tutti i diritti di dire non ci interessa abbiamo dovuto cercare altre soluzioni che abbiamo chiamato via bilaterale con un primo pacchetto di accordi nel 1999 lo vedete qui che aveva l'obiettivo di permettere l'accesso al mercato e vedete anche che cosa abbiamo dentro come come abbiamo la libera circolazione delle persone che non volavamo noi ma che era il prezzo da pagare per poter portare tutti i nostri prodotti commerciali in modo standardizzato in quel mercato per poter gestire gli appalti pubblici per portare i prodotti agricoli finiti per la ricerca per il trasporto aereo e i trasporti terrestri perché si possa andare in treno senza dover cambiare sulla dogana con voglio con tensione elettrica eccetera e gli aerei più o meno anche volano nella stessa area che ha la stessa composizione un po' comunque quindi ecco questo ci ha permesso di muoverci più liberamente e di fare affari meglio e di fare meglio ricerca e di fare meglio cultura e di poter ascoltare belle musiche più rapidamente che vengono prodotte altrove anche e qualche anno più tardi abbiamo fatto il secondo pacchetto che significava una collaborazione più approfondita un miglioramento delle condizioni quadro economiche e se voi guardate questi sedici accordi vedrete che la grossa parte di questi accordi ha a che fare col commercio cioè l'anima del nostro rapporto tra popoli e del nostro rapporto individuale è comunque e resta il commercio e allora chiediamoci che politica vuole oggi il Consiglio federale l'abbiamo tenuta abbastanza stabile negli ultimi anni l'abbiamo riaggiornata costantemente l'ultima volta all'inizio di quest'anni con la mia venuta ho dovuto fare questo primo sforzo di chiederci chi siamo dove va il viaggio che cosa vogliamo che cosa non vogliamo chiarezza abbiamo fatto chiarezza e abbiamo definito la visione che cos'è la visione il Consiglio federale vuole la migliore integrazione economica possibile ma insieme alla maggiore indipendenza politica possibile è la quadratura del cerchio ma questo va benissimo come nelle missioni anche come come ditte si fanno delle missioni e delle visioni che se fosse facile raggiungere sarebbero tutti bravi ma si sa almeno dove si vuole andare e questa emana proprio dalla Costituzione perché basta leggere l'articolo 2 della Costituzione e capite perché la Svizzera esiste perché noi vogliamo uno Stato federale lo vogliamo per garantirci indipendenza e prosperità e altre cose sicurezza eccetera ma indipendenza e prosperità sono i due le due roccaforte della nostra ragione ed essere per questo paghiamo anche delle imposte dirette e indirette quindi gli obiettivi strategici sono essenzialmente tre e li ho spiegati proprio in questo in un'università in un'altra sala ai miei primi cento giorni instaurare la certezza del diritto garantire la prevedibilità per le imprese per gli investimenti e estendere se possibile il mercato proprio perché vogliamo crescere non vorremmo che il miliardo di oggi diventi 800 milioni ma vorremmo che diventi diventasse un miliardo e due un miliardo e quattro col passare del tempo proprio perché ognuno di noi cerca di guadagnare di più nella vita non di meno cerca di avere più ricchezza e questo è una è una costante dell'essere umano fin dalla notte dei tempi non fare nulla non è un piano valido questo è un po' la risposta a chi dice ma che bisogno c'è di andare a negoziare abbiamo lì stiamo bene la disoccupazione è bassa sì è vero adesso stiamo bene la disoccupazione è bassa non abbiamo neanche tanta immigrazione in questi ultimi 12 mesi quindi la situazione è calma però se noi non facciamo niente se lasciamo che la situazione evolga senza far nulla è come se voi su un computer avete una versione di Word che è ancora di Word 95 di 15 anni fa ma certo che potete anche lavorarci con quello solo che non siete più compatibili con il resto del pianeta e questo è un problema che non possiamo modificare perché non siamo in mezzo all'oceano un'isola di pescatori siamo connessi e collegati con il resto del mondo e quindi serve un meccanismo semplice che ci eviti l'erosione degli accordi bilaterali che il tempo erode perché se non si muovono come ogni software si erode da lì nasce questa terza tappa dopo i bilaterali 1 bilaterali 2 c'è un bilaterali 3 che non si chiama così ma si chiama accordo quadro istituzionale ma cronologicamente è un terzo passo che va in una certa direzione e non va nella direzione dei britannici perché loro vanno nella direzione opposta loro c'erano dentro non al bilaterali 3 loro c'erano dentro al 10 già al 10.0 e hanno deciso di uscire che è anche legittimo e la storia dirà chi ha avuto ragione e chi ha avuto torto chi lo sa ognuno di noi può avere le sue fantasie ma nessuno sa se è una buona scelta o una cattiva scelta noi fino adesso constatiamo che le scelte fatte in questi ultimi 25 anni permettono oggi alla Svizzera di essere uno dei paesi più floridi e più competitivi e più innovativi del pianeta magari lo eravamo lo stesso chi lo sa non abbiamo la prova del 9 io penso di no tanti altri pensano di no però nessuno ha la certezza che sia così se guardiamo paesi che non hanno fatto un'evoluzione simile stanno molto peggio questo ci indica che probabilmente c'è una causalità tra le decisioni prese e dove siamo e quindi abbiamo detto c'è questo accordo quadro istituzionale perché chiamare un accordo in modo così complicato accordo quadro istituzionale nessuno capisce niente cosa vuol dire quadro cosa vuol dire istituzionale quadro vuol dire che ha una dimensione trasversale cioè che esplica le sue attività su più settori vedremo quali e istituzionale vuol dire che tocca delle questioni istituzionali qui bisogna già essere giuristi per sapere quali sono le questioni istituzionali però ve le ho messe come le può vedere un medico cioè molto semplice e ve ho scritto che sono queste quattro si tratta di della questione dello sviluppo giuridico quindi l'evoluzione delle leggi della vigilanza della sorveglianza chi vigila che è la legge quando chi vigila in Svizzera sulla legge sulla circolazione stradale la polizia attraverso delle leggi di applicazione dei cantoni così funziona è la nostra vigilanza che interpretazione dare del diritto quando non sappiamo bene se la precedenza in quel caso l'ira da destra o da sinistra chi è che decide alla fine e chi decide in via definitiva se c'è un litigio ufficializzato queste sono le questioni istituzionali e perché abbiamo detto che dovevamo chiarire queste cose perché torniamo agli accordi bilaterali 1 uno di questi accordi quello della libera circolazione delle persone per l'Unione Europea noi non l'abbiamo applicato in modo corretto in che cosa non eravamo corretti in queste famose misure accompagnatrici noi per proteggere perché volevamo e l'ha detto molto bene Ambrosetti se non avessimo fatto questo difficilmente avremmo avuto una maggioranza popolare allora abbiamo voluto proteggere i salari più elevati che ci sono in Svizzera soprattutto nelle zone di frontiera abbiamo voluto proteggere i lavoratori e lo abbiamo fatto con una legge apposita che si chiama legge federale sui lavoratori distaccati una legge che dovevamo fare anche perché nell'accordo sulla libera circolazione delle persone c'era un annesso che era un annesso sui lavoratori distaccati cioè non è che non ci fosse stato nulla nell'Unione Europea e noi l'abbiamo interpretato un po' tanto liberamente e agli europei questa cosa non è mai piaciuta e in particolare tre cose non sono piaciute questa famosa regola questa regola del preannuncio che siano poi 8, 7, 6 o 5 poco importo ma la regola il fatto di volere che chi va a montare una cucina dall'Italia a Lugano oppure dalla Francia a Ginevra deve preannunciare il fatto che vada questo non lo conoscono quando l'abbiamo fatto non lo conoscevano quindi non la volevano e non volevano nemmeno che le ditte fossero obbligate di mettere un obbligo di cauzione cioè mettere un po' di soldi in banca come quando si affitta un appartamento perché non si sa mai come va a finire e se alla fine mi lascia un appartamento disastrato almeno ho lì qualcosa per pagare quello che devo quindi se il lavoratore tedesco o austriaco prende una multa e io gli mando da pagare la multa ma poi lui in Austria in Germania in Italia non è più si svanisce nel nulla la multa non la paga nessuno quindi metti giù i soldi d'anticipo e se c'è una multa da pagare li tiriamo via da lì e poi ci sono alcune altre cose un pochino più di dettaglio sui lavoratori indipendenti i padroncini i pseudodipendenti e tutte queste cose ce n'è una lista una decina tre in particolare sono indigesti e sono i tre che vi ho appena detto e questa questi tre elementi da 15 anni da quando nel 2004 questa legge è entrata in vigore quindi sono sì un po' meno 14 anni sono contestati dall'Unione Europea ufficialmente avete avuto ragione nella tavola rotonda a dire soprattutto i tedeschi ma non solo anche i francesi i francesi l'obbligo di cauzione proprio non gli va giù e agli austriaci nemmeno quindi tutta l'Unione Europea che ci sta attorno contesta costantemente da 14 anni queste regole cosa succede col dispositivo attuale istituzionale che c'è questo comitato misto che ha ben spiegato il professor Schvock una commissione fatta di due o tre svizzeri due o tre europei funzionari dello Stato miei collaboratori insomma miei dipendenti del nostro dipartimento o di quelli di Schneider Amman se sono questioni più economiche eccetera eccetera che vanno a Bruxelles si siedono e dicono troviamo una soluzione non l'hanno trovata ma non non siate pessimisti l'hanno trovata su tutto noi da 14 anni abbiamo quattro questioni in sospeso dentro lì tutto il resto è stato sempre fatto molto bene dai nostri funzionari che funzionano bene queste quattro sono questioni eminentemente politiche che loro non riescono a risolvere e allora l'Unione Europea si è stancata di dire di cercare una soluzione dentro lì dal 2005 al 2012 ci ha messo sette anni non ci siamo riusciti ha detto basta cosa che si può anche capire a noi andava bene perché tanto non avevamo la nostra legge e nel 2013 ha detto adesso dobbiamo negoziare sulle questioni istituzionali perché perché la quarta questione prevede che in caso di incapacità del comitato misto di trovare una soluzione ci sarà un tribunale arbitrale ci sarà una decisione giuridica di un giudice oggi non c'è giudizio non c'è giudice o si trova un accordo o non lo si trova se passa questo pacchetto domani ci sarà un giudice vedremo poi che qual è questo giudice che è un tribunale metà europeo metà svizzero che si occupa proprio di queste questioni un accordo quadro quindi non è altro che uno strumento volto ad attuare in modo semplice omogeneo ed efficace gli accordi settoriali di accesso al mercato non c'entra niente con la ricerca non c'entra niente con settori che non abbiamo regolato tramite accordo quando sentiamo parlare delle banche cantonali per esempio abbiamo visto prima anche da professor Schvock era in discussione ma il consiglio federale all'inizio di questo anno ha chiarito questa cosa non c'entra più niente non vogliamo un accordo di servizi finanziari con l'Unione Europea quindi il problema di banche cantonali di assicurazioni non si pone è fumo negli occhi non c'entra proprio niente quello che vogliamo è assicurare l'accesso al mercato e mettere olio negli ingranaggi di questo motore perché e qui do un'altra spiegazione perché se non c'è chiarezza giuridica caro Sergio più nessuno investe e oggi l'80% degli investimenti svizzeri esteri sono fatti dall'Unione Europea e se noi oggi abbiamo posti di lavoro che i sindacati possono andare a difendere è perché i posti di lavoro sono stati creati è perché qualcuno ci ha messo dei soldi per mettere delle ditte questo i posti di lavoro non li crea lo Stato non li crea il paradiso li creano gli imprenditori lo Stato anche ma pochi rispetto a quelli che dovrebbero esserci ci sono paesi dove ne creano molto di più ma sono altri Stati nel nostro Stato liberale sono pochi per qualcuno sono ancora troppi per altri sono giusti per altri sono troppo pochi però questa è la realtà e noi vogliamo che questo vada avanti a esistere perché altrimenti ci troviamo in una difficoltà economica la certezza del diritto la vogliamo su cinque settori che sono questi cinque accordi del primo pacchetto dei bilaterali quindi l'accordo quadro istituzionale è una norma un insieme di regole che tocca cinque accordi settoriali che sono questi cinque libera circolazione delle persone trasporto aereo trasporto stradale su rotaia agricoltura e conforme diciamo standardizzazione industriale per dirla in poche parole ed è lì ed è da questi cinque che noi tiriamo fuori il miliardo al giorno quindi capite perché questo ha un'importanza per l'economia e quindi per la nostra per il nostro lavoro poi direte ma allora cosa c'entra l'equivalenza borsistica cosa c'entra la ricerca del segretario di stato dell'Ambrogio giuridicamente niente ma politicamente c'entra perché se l'altra parte dice o adesso troviamo una soluzione o vi scordate che noi teniamo aperto le porte su altre cose perché hanno il diritto di chiuderle quando vogliono come noi abbiamo il diritto di chiuderle quando vogliono quando vogliamo perché questo è una è una relazione alla pari si può divorziare in qualsiasi momento in qualsiasi accordo e loro dicono noi facciamo andiamo avanti ma a condizione che troviamo una soluzione che metta finalmente chiarezza su questa su questa disputa che da 14 anni va avanti questo è il problema che dobbiamo risolvere e perché lo vogliamo risolvere non perché è bello risolverlo perché ci fa piacere ma perché dal fatto di risolvere questo problema si aprono delle strade e delle porte che ci creano sicurezza e che ci creano previsibilità del futuro quale sicurezza beh li vediamo qui abbiamo un altro accordo un sesto accordo di libero di accesso al mercato europeo che vorremmo concludere che non abbiamo oggi ma che è pronto è lì pronto sul tavolo mancano ancora un paio di cose ma è lì ed è l'accordo sull'elettricità il popolo svizzero i cantoni abbiamo deciso di uscire dall'energia nucleare entro 2050 come facciamo a farlo ci autobastiamo con un'energia che non possiamo immagazzinare lo possiamo riuscire soltanto se siamo in una rete che tocca 500 milioni di persone dove un giorno producono di qui un giorno producono di là e l'energia va veloce e si può portare da una parte all'altra se no è difficile se no non si sa come fare a meno che rinunciamo tutti a fare la doccia calda ma questo è difficile poi abbiamo la sanità la questione della vigilanza epidemiologica quando ci sono delle epidemie mica si arrestano le frontiere passano attraverso le frontiere quando abbiamo problemi di tubercolosi vedete anche solo in Ticino ero medico cantonale quando ci sono epidocchi in una scuola vanno tutti in panico figuriamoci quando ci sono cose più importanti ed è importante che sul continente europeo ci sia una coordinazione di tutto questo poi abbiamo tutti i satelliti Galileo del progetto Galileo per il GPS per i telefonini per tutto quello che abbiamo bisogno di avere e fa parte alla Svizzera fa parte di questo continente quindi ci siamo dentro in mezzo geograficamente i mercati finanziari ve l'ho detto l'equivalenza soltanto e poi c'è tutto il mondo culturale media cinema produzione televisive eccetera eccetera di tutto questo diciamo sono tutte cose che sono lì pronte e che non andranno avanti se noi non troviamo un accordo poi possiamo dire cattivoni non ci volete bene però finché loro hanno questa loro struttura e possono decidere loro decidono e loro fanno i loro interessi e noi facciamo i nostri e questo è sempre così tra stati e poi l'ultimo è quindi questo nostro accordo che ci dovrebbe servire come vi ho detto prima a fungere questa linea rossa da norme da regole trasversali a queste regole di accesso settoriale al mercato quando ho preso in mano il dossier avevo essenzialmente tre blocchi indigesti che bloccavano tutta la questione che l'avevano anche piuttosto avvelenata uno era la questione della soluzione delle controverse un'altra quella degli aiuti statali e una terza quella che avevamo che nell'accordo è descritta come linee rosse e tocca diversi elementi tocca le misure di accompagnamento di cui abbiamo parlato tocca anche la direttiva sulla libera circolazione delle persone che chiamiamo anche la cittadinanza dell'Unione e tocca la sicurezza sociale vediamo cosa è successo in questi undici mesi per quanto riguarda le controversie vedete due ticinesi in questa foto perché il capo coordinatore è anche un altro ticinese poi sarà anche divertente la questione qui mi permetto di dirlo visto che siamo a Lugano se un giorno sarà risolta chiedersi quale cantone ha tirato fuori dalle rogne la Svizzera in questa situazione e quello sarebbe una soddisfazione personale gigantesca non ve lo posso negare però ecco con Roberto Balzaretti stiamo lavorando attorno a questo e la questione del chi decide quando nel comitato misto non si trova accordo oggi è chiarita oggi è chiarita e non è chiarita sono contento che non avete distribuito l'edizione terza del libro del professor Schrock perché questo non c'è ancora su e anche lui non è ancora aggiornato del tutto perché non possiamo dire tutto non possiamo raccontare le cose ma è chiarita in modo buono cioè il diritto quella parte del diritto europeo che tocca i cinque accordi di accesso settoriale e che noi dobbiamo rispettare se vogliamo mettere i prodotti su quel territorio evidentemente è gestita dal tribunale dalla Corte dell'Unione Europea così come noi vogliamo che sia il Tribunale federale che decide cosa fare sulle nostre autostrade e non la Corte Europea però negli accordi settoriali non c'è soltanto una ripresa del diritto europeo di quel settore lì quindi trasporto aereo che ci interessa ma c'è anche un diritto specifico nostro vuol dire Unione Europea e Svizzera che si chiama del suo proprio genere sui generis e su questo diritto l'Unione Europea non ha nulla da dire decide in modo definitivo il Tribunale arbitrale e questo è stato una grande conquista di questo negoziato perché era proprio lì il nocciolo della questione questo l'ha spiegato il Professor Schvock il Tribunale arbitrale è paritetico che siano poi tre o cinque giudici non cambia niente due di qui due di là e un Presidente che viene scelto dagli altri ma non pensate che ci sarà un palazzo anche solo come quello a Bellinzona del Tribunale Amministrativo Penale perché le questioni aperte sono quattro quindi questi giudici si troveranno decideranno qualcosa e poi finché non ci saranno nuove questioni vanno avanti a fare il loro lavoro altrove non è un posto a tempo pieno secondo punto della matassa gli aiuti statali gli aiuti statali cosa vuol dire vuol dire tutte quelle misure che uno Stato fa e che e che guastano una corretta concorrenza distorgono una corretta concorrenza se lo Stato interviene sul mercato dell'elettricità con delle sovvenzioni evidentemente modifica il prezzo di certi prodotti e non di altri e questo distorge la concorrenza è quello che ha fatto la Germania con tutta l'energia eolica per esempio perché non è che siano impossibili ma devono essere autorizzati appositamente la Commissione Europea ha autorizzato per oltre 150 miliardi di euro di aiuti statali quindi rimane possibile ma ci vuole un'autorità che vigili che non succeda così semplicemente ma questo solo in quei cinque settori dove noi vogliamo avere l'accesso al mercato qui non c'entrano niente le banche cantonali non c'entrano le assicurazioni perché lì non abbiamo chiesto nessun accesso al mercato non lo vogliamo neanche quindi non c'entrano per quanto riguarda il trasporto aereo già oggi abbiamo in quell'accordo le disposizioni che dovremmo d'ora innanzi utilizzare per tutti i nuovi accordi addirittura vi posso dire che abbiamo negoziato che queste disposizioni rispetto al passato cioè i cinque accordi che abbiamo ho detto in quello aereo sono già contenute negli altri quattro no e hanno accettato che non le metteremo negli altri quattro quindi sul passato solo uno su cinque tutti i futuri invece dovranno averli beh questo è il senso della misura tant'è che l'accordo sull'elettricità vorremmo l'abbiamo già anche scritto in questo senso la sorveglianza viene fatta ognuno per conto suo la Svizzera e qui è vero deve ancora definire con quale autorità di sorveglianza e qui sarà una bella discussione interna tra confederazione nei cantoni perché perché abbiamo un problema nostro di Stato federale ma troveremo una soluzione pragmatica che sarà favorevole che sarà che sarà corretta anche di fronte all'Unione Europea e poi arriviamo a queste linee rosse dicevamo le misure d'accompagnamento linee rosse cosa vuol dire vuol dire che quando si scrive si redige il mandato negoziale dentro c'è scritto che di quello noi su questi punti noi il signor Balzaretti e la sua squadra non possono negoziare questi punti non significa che gli altri abbiano il divieto di parlarne significa semplicemente che noi svizzeri non abbiamo libertà negoziale quindi non possiamo fare altro che prendere i desiderata dall'altra parte e portarli all'autorità politica in Svizzera perché non c'è nessuna possibilità di negoziazione sono queste misure atte a proteggere i salari dei dipendenti svizzeri che sono nettamente più elevati che la media di quelli europei anche degli stati limitrofi sono anche delle misure di protezione del mercato non tanto belle dal profilo liberale però non importa sono misure che abbiamo voluto e che continuiamo a volere perché fanno parte degli equilibri del nostro paese non c'è mai stato e qui lo dico chiaro e netto senza mezzi dubbio un dubbio da parte del Consiglio federale di non volere questa protezione laddove c'è stata la grandissima discussione durante tutta l'estate su questo elemento qui si trattava di informazioni sbagliate perché l'unica riflessione che si potrebbe avere è se i meccanismi necessari a quella protezione salariale lì possono o non possono essere negoziati in questo senso c'è stata durante l'estate una presa di contatto tra i partner sociali e purtroppo l'assenza dei sindacati il Consiglio federale evidentemente era tristito di questa assenza e ha deciso nella penultima seduta di ridomandare è talmente non svizzero il non discutere di un problema che si fa fatica ad accettarlo speriamo che i sindacati abbiano questa apertura di parlarne poi la direttiva sulla libera circolazione è una direttiva più complessa che oggi non c'è nel pacchetto e che noi continuiamo a non volere e su questo punto invece gli europei vogliono che la riprendiamo su questo punto rimane ancora l'inzio speso perché dipende un po' da che cosa decideremo di fare lì quello è l'ostacolo principale e poi c'è il terzo ostacolo che è il sistema dell'assicurazione avete forse letto in luglio che l'Unione Europea ha introdotto un cambiamento di paradigma l'assicurazione disoccupazione non è più l'assicurazione disoccupazione italiana che paga il lavoratore in Svizzera che rimane disoccupato ma dovrebbe essere quella Svizzera cioè è il luogo del lavoro e non più il luogo di domicilio che conta è così in tutto il paese però è una discussione che è in corso non è in vigore questa direttiva e è molto combattuta e comunque che noi facciamo o che non facciamo l'accordo quadro istituzionale questo tema l'Unione Europea ce lo chiederà perché l'abbiamo già dentro oggi nella libera circolazione delle persone c'è un protocollo sull'assicurazione e disoccupazione oggi paghiamo all'Unione Europea 250 milioni di franchi all'anno a causa o grazie a questo accordo che c'è nel sistema quindi vedete ci sono questioni che ha detto molto bene Mauro dell'Ambrogio prima il mondo non si ferma mai adesso dobbiamo andare a votare tre volte ma anche fra due anni andremo a votare tre volte cioè continuiamo a avanzare perché questo è il nostro destino ecco concludo semplicemente dicendovi spero di avervi dato una panoramica di quello che sta succedendo il Consiglio federale ha deciso di andare fino in fondo di provarla tutta e di vedere se riesce a raggiungere la qualità desiderata se non raggiunge la qualità desiderata non sarà di certo il Consiglio federale a firmare nulla noi non ci siamo dati nessun termine non esistono termine guardate che tutti questi termini di cui media parlano non esistono cioè non abbiamo nessun deadline per farlo ma siamo coscienti che in una dinamica di potere tra stati quando una parte dalla cui volontà noi dipendiamo abbastanza economicamente decide di come dire fare delle dei pizzicotti li può fare e lo abbiamo visto l'anno scorso e lo abbiamo visto già un anno e mezzo fa sul piano industriale non concedendo certe misure di standardizzazione industriale cosa che significa che i nostri produttori non possono più importare i prodotti perché non sono compatibili con gli standard quindi vedete abbiamo questa questa quadratura del cerchio questo questo bisogno e desiderio di essere economicamente commercialmente parti di un unico mercato ma abbiamo un bisogno disperato perché la nostra identità e senza quella non esisteremo di essere indipendenti e sovrani e la costituzione ce lo dice chiaramente all'articolo 2 e qui bisogna trovare quel finissimo equilibrio che permette di salvare la capra e i cavoli e riuscire ad andare avanti io sono fiducioso perché la Svizzera questo delicatissimo equilibrio non ce l'ha da oggi ce l'ha da almeno 170 anni con lo Stato federale moderno e hanno sempre i nostri predecessori trovato una via e questo mi dà la fiducia di credere che abbiamo le capacità per trovare una via anche oggi grazie per l'attenzione un vivissimo grazie al nostro consigliere federale nello spirito di coscienza Svizzera non attendavamo lo scoop del 15 di ottobre ma proprio qualcuno che c'è bisogno di spiegare di far capire una relazione che è sempre stata complessa tra Svizzera e Europa e tu l'hai fatto magistralmente come la conferenza del professore tu da politico l'hai fatto questa sera e credo che bisognerà moltiplicare queste occasioni di spiegare cose difficili ma quanto importante per il nostro avvenire ringrazio tutti i relatori coloro che hanno organizzato c'è voluta tutta l'estate per organizzare una cosa del genere c'è ancora un bel aperitivo che permette di scambiare ancora qualche elemento di discussione soprattutto creare relazioni di amicizia come penso tu sei capace di fare un vivo grazie grazie mille ciao